Di fatto, come abbiamo detto, la ripresa ponendo avanti al blog i sonni nell'ordine, una lente planare, una lente planiforme, con sovrapposto un foglietto metallico microtraforato, tipo occhio di mosca, più due foglietti polporizzati, orizzontalmente e verticalmente, crea un maggiore effetto di rilievo, anche se c'è un po' di disturbo nella visualizzazione dei punti più o meno chiari, più o meno scuri, frutto del fatto che c'è davanti questa lente occhio di Mosca. Vi saluto. Un po' di mongolia. Un po' di mongolia. Un po' americano. Un po' di mongolia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Torniamo di qua. Muove figli. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.